ciao io che ho capito la missione va con dj abbiamo un dj contro non ho capito se siamo in live o no io no, siamo in live gtf public la tua e la nostra oh, my first kill skill ballista e faccia rico ballista mamma mia silver è morto il po' riali che prendono a voi i moni guapina mp faccio una kill capisola di merda ricarico a tendere ma sta fatuato è impleccibile vabbè raga io non li trovo fate come vi pare guarda come mi ammazzano 18-2 siamo guarda guarda non mi ammazzo guarda e vai giù dio cane non vai giù che ti ho pensato io ho avvisi disturbi non è che voglio il mondo un assegno da 500 miliardi di euro no silver parla troppo veloce sembra paolo bonoli ma ti pare che ti chiami dj petrus io uccido quelli fermi secondario del pompa o il mongoloide io uccido quelli fermi dite me da sta quello fermo che lo uccido io non lo so no ma giocateci voi con l'execution senza accessori poi ne riparliamo quello che ho fatto dopo aver pagato i ragazzi non mi aiutato e due chi l'ho fatto quello che sta a 4-6 si sente siero quello che è giù del bersaglio ma te la mattina te la te la ecco la riade chiamata marco di io ma 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 no ma 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 ok oddio che culo ho distrutto ma che si ha fatto un'immigrazione perchè sei troppo su Wend vabbè regà ma voi li trovate, guarda sta finchere i nuclei arriva sei troppo underground per fare l'immigrazione ma stanculo ho distrutto oh 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 che è quello con la metà stordente lanciata guavina sistemato guarda amico sembra un bambino, sembra blade sembra guaviti disturbo in arrivo asfaltare mamma mia mamma mia li trovo li trovo a chilometri di distanza facciano il mirino e mi uccidono mamma mia mamma mia guardali guardali incazzati proprio contro di me stordente lanciata uccisione confermata non ti dà porca troia oh oh ho visto no 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 raga no incredibile cioè io vado in giro e mi mira quello mi mira c'ha la in basso di me non scherzo eh a me quello è il 12 colpo vabbè no incredibile incredibile c'ha la in basso di me quello mi raccoglietto solo io lo trovo c'ha il panino lo svegli vaffanculo ti sconno hai il panino ho nel viso vabbè granata via di lì chiam quello il vetro mi ha fatto proprio il bismargino è morto o male è morto ricarica la biscotta che fa la ghirlicam c'è chi non muore con un modo imbarattante infatti infatti eh di shot eh ovviamente 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 è proprio era ovvia la gota stordente lanciata corri forrest no no raga questo è negativo se sbordano non vediamo un video niente di nuovo vai uccidimi guarda oh porco dio non mettono lo scaracca ragazzi a bruciare mi scaldopate giuro eh sei nove eeeh 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 guarda eeeh eeeh anche di bosun sono una ladra madonna ma guarda un colpo da un chilometro io gli ho sa mille colpi guardalo riposessantanove è un caso oh ho una ciolla che sembra un bazzucca nella tuta minchia non ti piacciono i gtf figa minchia ammazzati figa sparati quando arrivo devi farmi passare eeeh